I cittadini di Tortorici, cui debiti nei confronti del Comune non sono stati iscritti al ruolo dell'Agenzia delle Entrate o di riscossione Sicilia, avranno altri due mesi di tempo per aderire alla definizione agevolata del pagamento. La Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Scienza ha infatti prorogato al 28 febbraio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di adesione per la definizione agevolata di pagamento per chi non ha pagato imposte, tasse e canoni comunali dovuti per gli anni fino al 31 dicembre 2016. Una proroga resa necessaria per consentire la più ampia partecipazione in concomitanza delle festività natalizie anche ai cittadini domiciliati fuori sede, visto che i finatori cittadini hanno accolto questa iniziativa non solo perché devono farlo ma anche perché il Comune possa mantenere in modo efficiente i servizi. Potranno sanare i propri debiti attraverso il pagamento rateizzato delle somme dovute in base ad un numero minimo massimo di rate mensili già stabilito dalla Commissione in funzione dell'importo complessivo del debito. Chi poi non ha ricevuto sollecito avviso di accertamento avrà lo sgravio totale degli interessi e delle sanzioni. Se invece li ha ricevuti avrà lo sgravio solo degli interessi. Per poter aderire a questa proposta il cittadino, grazie al nuovo termine, dovrà presentare istanza entro il 28 febbraio 2018.